buongiorno benvenuti in questo nuovo video oggi è martedì ed è la giornata in cui io mi andrò a fare un mega restauro allora vado dal parrucchiere questa mattina subito infatti adesso vado a pregare vado passo un attimo al banco ma te prelevo e vado dal parrucchiere ho appena visto che mio marito ha spostato le cose per allenarsi ma non me l'ha rimessa a posto a rieccomi allora mi dicevo mi ha chiamato chiara la mia amica nonché proprietaria di new diva e perché sto facendo un altro ordine insieme altre due amiche vabbè quella è tutta un'altra storia e niente io adesso vado appunto a farmi i capelli ragazzi perché sono in uno stato pietoso quindi ci rivediamo dopo scappo perché è già tardissimo ho fatto mi andiamo a casa che è luna c'ho fame 3 2 1 tada allora probabilmente per voi non sarà cambiato niente oddio il bagno io che faccio le riprese con il bagno aperto allora probabilmente per voi non sarà cambiato assolutamente niente però allora ho innanzitutto sistemato il taglio perché era una cosa indecente e io l'ho praticamente fatti ritornare a una vita questi capelli perché erano una cosa oscena il mio parrucchiere quando mi ha visto gli abbassato fa così mi ha detto senti sti capelli non sono idratati per niente so proprio una situazione cioè adesso la situazione è questa ho fatto il colore ho fatto un castano perché c'è non c'avevo tre colori in testa ho fatto un castano quindi si è uniformato il tutto e ho fatto dei riflessi che però ovviamente adesso non si vedono perché sono appena fatti però si vedranno questo è quanto poi mi sono fatta dare proprio dei prodotti apposta perché praticamente il aspettate il mio parrucchiere praticamente mi ha detto che apposta cioè il risultato di un buon capello cioè di una buona testa dei bei capelli definiti eccetera è ovviamente utilizzare anche dei prodotti allora visto che io l'ho provati 300 mila e nessuno mi ha dato il risultato che volevo ho deciso di prendere i prodotti che mi utilizza lui perché è la terza volta che ci vado mi usa sti prodotti e mi definisce benissimo e stavolta ho detto senti quindi tagliamo la testa al toro prima che perdo altri soldi per altri tipi di prodotti eccetera eccetera prendiamo un po' i prodotti che mi propone lui e che utilizza lui sui miei capelli logicamente poi mi ha detto pure che vanno pure di moda capelli ricci vanno i capelli ricci naturali quindi anche se sono alti senza un senso vanno bene mi toccherà fammi li piace perché vanno di moda e non è perché vanno di moda è perché comunque io ho questi dei capelli non è che posso far miracolo e diventa liscia e quindi niente e adesso vediamo se riesco a far sì che questa testa mi rimanga almeno fino a che non ci rivado ok vi faccio vedere i prodotti che non sono altro che dei prodotti da quello che ho capito a base d'argan ho preso shampoo crema e l'olio adesso vi faccio vedere un attimo allora già il nome dice tutto rituale rigenerante allora qui dentro c'è lo shampoo appunto all'olio d'argan e vitamine e la il trattamento diciamo come se fosse la crema per i capelli e poi mi ha dato questo che è anche questo un olio sempre all'argan e vitamina e che devo utilizzare sia prima dell'asciugatura sia dopo l'asciugatura se vedo che non c'è molta definizione due shampoo calcolate che io ne faccio uno e invece mi ha detto no ne devi fare due e una di questa devo tenerlo per lui mi ha detto sarebbe meglio mezz'ora però mi ha detto anche se non c'è tempo anche un quarto d'ora e dieci minuti vanno bene basta che prima tamponi i capelli cosa che io non facevo e poi appunto questo come diciamo olio per pre asciugatura in più c'era anche uno specchietto da borsetta per nella confezione cosa che metterò subito in borsa perché questo serve sempre e niente questo è quello che mi ha dato il mio parrucchiere ora ragazzi speriamo che riesca nell'intento però ecco adesso sto sotto la luce della cucina non so oddio no qualche riflesso si vede però logicamente adesso è appena fatto eccoli qua eccoli qua i riflessi ovviamente adesso appena fatto c'è pure lo scuro logicamente al primo shampoo se ne andrà tutto questo scuro perché ho fatto un castano cioccolato con i riflessi ramati va bene adesso sto qui senza stare qui a farvi vedere i capelli 4 5 ore io vado a pranzo perché ho famissima luna passata e poi alle 3 alle 3 devo andare dall'estitista perché perché praticamente voglio andare a fare una consulenza per delle cose ben precise una volta che uscirò da lì poi vi farò vi dirò quello che abbiamo deciso di fare intanto io mangio perché ho fame ragazzi eccomi qua allora e niente stiamo niente sono tornata ho fatto più tardi di quello che pensavo infatti i bambini me la dovevo di prendere una mia amica e ho fatto questa consulenza diciamo da quest'estitista che conosco benissimo ci conosciamo benissimo c'è un po' da modellare un po' tutto l'unica cosa è che sono rimasta sconcertata che praticamente mi ha detto guardando così che non ho la cellulite ma la ritenzione e questo già un po' mi ha graziato le braccia stanno a posto dobbiamo lavorare sulla pancia e sulle cosce perché ho una fortissima ritenzione idrica mi ha detto che lo yoga speriamo che non mi blocca la schiena perché ad esempio lei ha dovuto smettere perché le bloccava la schiena domani mattina comunque comincio e ovviamente faremo un diciamo un pre e post trattamento quindi se funziona ve ne parlerò lei finora non l'ha mai sbagliata una quindi secondo me funzionerà sicuramente ovviamente queste cose sono io ho fatto una consulenza per me stessa lei fa consulenze per persona non fa cose tutte uguali per tutti logicamente perché ognuno è diverso dall'altro e mi sembra anche giusto fare un trattamento in base alla persona in base a quello che la persona vuole come sta di testa tutta una serie di cose quindi niente adesso io ho Aurora di là che sta facendo i compiti perché per domani ha comunque i compiti anche se è uscita di pomeriggio e tra un pochino io me ne vado a fare i pilates e niente vado a fare i pilates poi torno e si cena anzi cenerò da sola e dovrò cominciare a prepararmi qualcosa per cena perché Samuele è stasera pugilato ok detto ciò io mi cambio perché mi devo cambiare per andare in palestra e niente ci vediamo più tardi così vi faccio vedere cosa preparo per cena ciao 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 Grazie a tutti.